Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova serie Io sono Espy Royale E qui oggi con me c'è Eden Gamer 172 Allora ragazzi, io non vi faccio vedere per i miei capelli Però volevo dirvi una cosa importantissima che metto il dito qua Ragazzi, Royale vi ringrazia per tutto il supporto 25 iscritti E 5 like ogni video E grazie pure per l'intro, quella là mi è piaciuta un sacco Cominciamo la serie Raga, sai perché vi ho detto grazie per l'intro? Perché ha visto un intro su Youtube che c'è scritto Espy Royale E gli sembra che gliel'avete fatta voi Forse gliel'avete fatta voi, scrivetelo nei commenti Ok, vai Bene comincia La campagna su Rey No, nuova, nuova Nuova campagna, sì Nuova, sì Perché questa è per i... Per i... Facile, è un normale, difficile o incubo? Incubo Ce la fai? Vai, clicca! Come incubo? Incubo Io sono un figo Io sono un figo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Spegni questa cazzo di luce No, sì, vero Io accendo il flash Aspetta Bene ragazzi, per questo video è tutto perché abbiamo visto già tutto, perfetto E Royale vuole detto nei commenti se volete che lui da solo vi registra un video di zombie, bello Sì No, con me, con me Ma non a luna di notte A mezzanotte, perfetto No, 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 no Ragazzi, iscrivetevi al canale di Omega111 del nostro cugino Salutiamo Ora Ciao Omega Ciao Omega Ciao Omega Fai un altro bel video Che ce la spacchiamo Omega111 Le like Ok Non so quante parti arriverà sto video, raga Ma anche una, no? No, se tutto va bene Che figo Posso muovermi Sono figo Wow Guarda in su ha detto Ok In su In giù Qui mantiene questa geligia Sì Cosa ha detto I sistemi di invio ha detto Ok, clicca Gia Batman La Batcaverna rossa Sì Qui c'è Batman Però come corre Mettici a mano Non li Non li Non li Non li Non li Non li Fai Fai Fai